Manteniamo la macchina del sindaco che sfreccia, prudente invece è Rita Zimmermann, aspetta. La presidenza è nostra. Volete prendere le foto? Sì. Non mi ha finito il ruotolino. Non mi ha finito il ruotolino, non mi ha finito il ruotolino, non mi ha finito il ruotolino. Non mi ha finito il ruotolino. Gli altri si sono avviati. Penso che sia. E poi che c'era? Il bambino? Il bambino, il bambino, il bambino. E poi il pietro. Quanto bravo. Questa è la periferia. Sì. Grazie.